16 colpi di pistola per sterminare un'intera famiglia, quella di suo fratello. Angelo Tardino, imprenditore agricolo di Licata, di 48 anni, aveva pianificato tutto, fin nei minimi particolari. Alle 6 di mattina è uscito di casa, ma invece di andare in campagna a coltivare i suoi terreni, si è precipitato a casa del fratello Diego, 44 anni, incontrato a Saffarello, a Licata. Da tempo i due non abitavano più nella stessa palazzina a causa di continui dissidi per la divisione di alcuni terreni coltivati e di un pozzo. Addosso, Angelo Tardino aveva almeno due armi, una calibro 9 e un revolver, tutte regolarmente detenute. Suona il cancello e Diego gli apre. Di fatto non si aspettava che il fratello più grande fosse armato. Gli ha aperto tranquillamente la porta di casa. Anche lui aveva in cassaforte una pistola e aveva anche una carabina, regolarmente detenute. La discussione si anima, Angelo inizia a sparare e lo colpisce una, due, tre volte. Diego stramazza al suolo, senza vita. Angelo Tardino entra in casa e inizia a cercare, stanza per stanza, la moglie e i figli del fratello. La prima a cadere sotto i suoi colpi, almeno quattro, era Alessandra Ballacchino, la moglie di Diego Tardino. Poi tocca ad Alessia Tardino, di 15 anni. Infine, l'ultimo colpo è stato destinato al più piccolo della famiglia, Vincenzo, di appena 11 anni. Verrà trovato solo molte ore dopo, sotto il letto, avvolto nella coperta della nonna. Angelo Tardino, dopo la carneficina, lascia l'abitazione del fratello e chiama la moglie. Ho fatto una follia, li ho ammazzati tutti, dice, ora mi ammazzo. La moglie inizia a gridare, gli dice, cosa hai fatto? E chiama subito i carabinieri. Mio marito ha ucciso mio cognato e la sua famiglia, ora vuole uccidersi, aiutatemi. Scatta la ricerca e i carabinieri chiamano al telefono Angelo Tardino che gli risponde e iniziano a parlare. L'uomo vuole costituirsi, poi all'improvviso cambia idea. Chiude la telefonata e sparisce, diventa irreperibile. I militari nel frattempo lo localizzano e lo raggiungono sotto un cavalcavia in via Mauro De Mauro, nella zona di Oltre Ponte. Ma è troppo tardi, sentono uno, due spari. Tardino si è sparato. Verrà trasferito in l'ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove morirà dopo alcune ore. Le ferite in testa sono troppo gravi. La notizia si sparge in paese. Intanto i mezzi delle onoranze funebri sono arrivati sul luogo della strage per trasferire i corpi all'ospedale di Agrigento, dove sarà eseguita l'autopsia disposta dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che coordina l'inchiesta sulla strage, insieme con il PM di turno, Paolo Abetro. L'autopsia verrà eseguita sabato mattina dal medico legale Alberto Alongi. Per tutto il giorno vengono sentiti la moglie e il fratello di Angelo Tardino. Spiegano i motivi delle continue liti tra i due fratelli. Il sindaco Pino Galanti annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle quattro vittime.